Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Un caloroso buongiorno a tutti i nostri ascoltatori Vediamo i principali temi caldi in Casa Viola presenti sui quotidiani oggi in edicola La Gazzetta dello Sport, Borca Valero Come è difficile ritorno a Firenze Le richieste dell'Inter complicano e rientra in Viola dello Spagnolo Il Corriere dello Sport, commisso Chiesa, incontro al Bronx A breve la chiacchierata tra il patrone e il gioiello Viola per discutere del futuro Pronta all'offerta di un rinnovo di contratto a 3 milioni a stagione La Juventus resta alla finestra La Nazione, Keita Balde, mossa a peso d'oro Ma il Monaco apre solo al prestito L'ex Inter è il sogno di mercato regigliati Il giocatore però vorrebbe lasciare il principato a titolo definitivo Il Corriere Fiorentino ricomincia dal terzino Montella punta su Lirola per sistemare la difesa Il difensore del Sassuolo potrebbe essere il primo rinforzo dell'era commisso Accordo di massima con il giocatore Distanza tra Viola e Neroverdi Per Fiorentina1.com, Beatrice Canzedda